eccoci di nuovo qua allora io adesso invito qui in scena francesco garofalo buonasera allora ciao francesco prego da questa parte allora francesco intanto ti ringrazio per essere qui con noi e chi meglio di te ci può spiegare cosa fai perché qualcuno magari non ti conosce allora raccontaci di te questo diventerà il titolo di una canzone davvero bellissima allora appunto mi chiamo francesco garofalo sono un artista sono conosciuto nell'ambiente dell'arte perché negli anni trascorsi mi sono stati commissionati dei lavori abbastanza importanti quale il ritratto di barack obama che ho presentato alla casa bianca o ritratto il nostro presidente della repubblica mattarella papa francesco benedetto sedicesimo e tanti altri sono preside di un'università unitelematica svizzera approfitto per salutare il magnifico rettore stefano masullo e mi occupo anche di autismo perché collaboro con una fondazione che è la prima fondazione nazionale che si chiama fondazione sospiro proprio per i ragazzi autistici gli preparo dei corsi d'arte perché comunque anche le persone diciamo con alcune problematiche hanno diritto e comunque sono degli ottimi artisti perché soprattutto gli autistici non sono contaminati quindi quello che hanno dentro riescono a trasmettere parlando di arte io ho una sorpresa per te questa sera per ringraziarti per l'invito vorrei vorrei prenderla allora io ti ringrazio nel frattempo e e e